Grazie a Don Antonio e a Padre Maurizio, con cui abbiamo terminato pregando sed libera, non sa malo. Dunque, in mezz'oretta dovrei parlarvi un po' del combattimento spirituale e lo faccio facendo un po' una sintesi di un ritiro bellissimo che abbiamo vissuto quest'estate con Costanza e tutte le sue amiche del cerchio ristretto con alcuni mariti. Per tre giorni siamo stati insieme a fare questo ritiro in cui abbiamo ricevuto davvero tante grazie, consolazioni, aiuti da parte dello Spirito Santo, di Dio. Dunque, la tentazione anche per me è di parlare pensando a dire delle cose giuste o fare le citazioni giuste, ma oggi noi siamo qui per pregare, per aiutarci nel combattimento spirituale, nella preghiera. E allora la prima cosa... non si sente? Scusate. Ops. Adesso meglio. La prima cosa importante quando si parla di combattimento spirituale che bisogna per sgombrare immediatamente il campo è che la preghiera non è un luogo con le farfalline, i cuoricini e i fiorellini in cui hai una guerra fuori, poi preghi e diventi Alice nel paese delle belle meraviglie. Pregare è combattere. La preghiera è una guerra. E se è una guerra vuol dire che ingaggi una battaglia contro un nemico. Non c'è niente di più pericoloso, di più grave, che ti mette più a rischio nella vita che essere in guerra e non sapere di esserlo. Per cui tu fai un magnifico girotondo e sei in un campo minato e ti capita che nel girotondo metti un piede su una mina e ti salta una gamba. Oppure non c'è niente di più pericoloso che essere in guerra e non conoscere il nemico, non conoscere le sue tattiche, non sapere chi è, non conoscere i suoi trucchi. Oppure non c'è niente di più pericoloso che cadere sotto il fuoco amico. Se qui ci sono dei militari lo sanno. Il disonore più grosso per un militare è morire sotto il fuoco amico. E quando sei in guerra, in combattimento, non distingui gli amici dai nemici. Allora questa è una cosa molto importante quando si parla di combattimenti spirituali. Molti cristiani non credono più nell'esistenza del demonio, di Satana, il serpente antico, diabolos. Alcuni, e questo non è un dato così secondario, qui siamo sulla tomba di Pietro, la Chiesa da sempre non è chiamata a fare la piacciona ma a custodire una verità che non gli appartiene, che sta traghettando nei secoli. E la fede della Chiesa, pensate solamente all'esortazione dell'Apostolo Pietro che dice siate sobri, vegliate, il vostro nemico, il diavolo come un leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistete gli saldi nella fede. Io non so voi come vivete, però in genere il diavolo polarizza, cioè qui in mezzo a noi, cioè qui siamo chiamati a fare un'esperienza oggi che ci aiuti. Alcuni di voi siete anestetizzati, siete la bella addormentata nel bosco, cioè vivete ma avete in mano il cellulare, pensate già a quello che dovete fare in un altro momento. Come anche gli Apostoli, come anche Pietro che quando erano a Gamla, Gesù gli deve far capire che non è un leader politico e questi qua pensavano che era arrivato finalmente il politico giusto che liberava Israele dal dominio romano, ma il regno di Gesù gli farà capire non è di questo mondo. Alcuni siete proprio addormentati, cioè c'è bisogno, Dio deve inventarsi strategie, fatti. Una volta ho sentito in uno mio amico prete una cosa che mi è piaciuta molto in una catechesi che diceva, adesso nessuno si offenda ma io sono dentro insieme a voi, cioè siamo tutti chi più chi meno un po' dei palloni gonfiati. Allora Dio deve metterci delle spine, deve bucarci per togliere un po' di aria e questo pallone che volerebbe lo deve far atterrare tantissime volte, sono le difficoltà nella vita, i combattimenti, le cose che non vanno, quegli imprevisti che ti sparigliano le carte nella vita per farti capire che non sei Dio, fanno parte del combattimento spirituale. perché noi cerchiamo sempre di assicurarci questo mondo, stare bene qui come se questa fosse la meta della nostra vita. Il nostro destino è andare in cielo, per questo anche le chiese sono così alte, così belle, ti aprono il cuore, ti fanno pensare che il nostro destino non è una camera d'albergo di di dieci metri quadri, siamo fatti per il cielo, è il giorno più bello della nostra vita, sarà quando Gesù ci verrà a prendere il giorno della nostra morte, vedremo che Dio è una persona. Ma in questo tempo della vita, che è il più breve, che viviamo in questa terra, è quello decisivo, dice il catechismo della Chiesa Cattolica, dove si gioca un destino eterno. Molte volte noi non ce lo ricordiamo, ma il diavolo sì, se lo ricorda benissimo. Ed è per questo che in tutta la vita ti dovrà tentare per addormentarti, per non farti vedere niente di questo. Magari tu stai risolvendo i problemi del mondo e i tuoi figli se li sta sbranando il demonio, gli ha già rubato la vita morale, la vita della Chiesa, la dignità in se stessi, ne stanno combinando di tutti i colori. Intanto tu stai pensando, sono tanti, e poi c'è un altro estremo, che sono di quelli che credono al demonio un po' troppo. Cioè ultimamente ho ricevuto un messaggio, i demoni entrano nei corpi degli uomini attraverso i vaccini. Gli ho detto vai da uno psichiatra, bravo. Un'altra donna poverina dice, il mio direttore spirituale mi ha detto che col vaccino ci mettono un microchip che ci... allora esiste il demonio però non è che ogni cosa... in questi due estremi che comunque stiamo parlando di schiavitù. poi c'è una vita importante... San Paolo, che citavo a padre Maurizio, è un gigante. San Paolo, vi ricordo, insomma, ha ucciso delle persone. San Paolo ha fatto anche esperienze umane di un certo rilievo. Non è proprio un educando. Non preoccupatevi se durante queste catechesi sentite anche dei disagi, eh? Perché alcune cose il demonio non vuole che le ascolti. Per questo tante volte nella preghiera ti addormenti, la fantasia prende il possesso, ehm... perché il demonio esiste. E non vuole che ascolti alcune cose. E usa qualsiasi cosa per non farti stare accanto alla parola di Dio, per non risvegliarti dal coma. San Paolo mette sull'avviso subito, quest'estate abbiamo meditato sul capitolo 6 della Lettera agli Efesini. Vi passo alcuni stralci. Lo dice in modo chiaro. Indossate l'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. I padri, molti padri, anche quelli dell'Oriente, vagriopontico, dicono che ci sono battaglie visibili contro il demonio, ma ci sono battaglie invisibili che sono le più efficaci. È un parlare dentro continuo. È un mormorio continuo che tutti abbiamo. E lì o ti parla il demonio o ti parla lo Spirito Santo. Sei cosciente di quello che ti capita o non sei cosciente. Ma tutti abbiamo questo lavoro interno. E lui dice che la nostra battaglia, infatti, non è contro la carne e il sangue, ma contro i principi e le potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. E non dovete pensare che sono cose molto lontane da noi. Vi cito anche recentemente, saltiamo da San Paolo a Papa Francesco, in Evangelii in Gaudete ed Exultate, ai numeri 160 e 161, il Papa ci avvisa e dice, di fatto, quando Gesù ci ha lasciato il Padre nostro, ha voluto che terminiamo chiedendo al Padre che ci liberi dal maligno. L'espressione che lì si utilizza non si riferisce, dice Papa Francesco, al male in astratto e la sua traduzione più precisa è il maligno. Molti dicono che il male è una cosa astratta, che è un simbolo, un sentimento, che sono le tue debolezze. Falso. Assolutamente. Vado avanti a leggere quello che dice il Papa in Gaudete ed Exultate. indica un essere personale. È un angelo decaduto che ha il compito di farci del male. Per questo abbiamo tutta una serie di aiuti, tra cui gli angeli custodi. Quando stamattina abbiamo pregato le lodi, non era un modo di dire che Dio manda il suo angelo. Esistono davvero anche gli angeli custodi che ti avvisano, che ti suscitano, ti danno delle intuizioni profondi. Non è che ti fanno trovare solo i parcheggi. Adesso non so se anche voi avete... Ma a casa mia c'era l'abitudine di pregare l'angelo custode di trovare il parcheggio. Ma fanno anche qualcosa di più importante gli angeli custodi. Ti aiutano nel combattimento contro il demonio. Ti sostengono nella battaglia. Ci svegliano quando dobbiamo essere svegliati. Ci consolano. Anche Gesù gli è stato mandato un angelo nel combattimento finale. E il Papa dice, appunto, in Papa Francesco, l'espressione che si utilizza non si riferisce al male in astratto. E la sua traduzione più precisa è il maligno. Indica un essere personale che ci tormenta. Allora, il tuo problema non è la vicina di casa che accende lo stereo alle tre di notte. O che trapana il muro e ti crea dei danni. Quella è l'occasione che il demonio utilizza per tormentarti. E faccio esempi banali. Ci sono poi altri... Cercherò di spiegarvi, se c'è tempo, alcune dinamiche tipiche del combattimento spirituale contro il demonio. Il Papa continua e dice, Gesù ci ha insegnato a chiedere ogni giorno questa liberazione perché il suo potere non ci domini. Quindi vuol dire che se noi ogni giorno non chiediamo questa liberazione, il potere del demonio ci domina. Non è un dettaglio pregare o non pregare. No, ma è buono. Io quando a volte dicevo nel corso di matrimoni, ma tu sei stata cresciuta in una famiglia cattolica, ti hanno insegnato a pregare così. Ma questo ragazzo dice, no, però ha fatto il segno della croce una volta. Mi concede che si viene a sposare in chiesa. E tutta la vita poi? E nell'educazione dei figli? E quando si dovrà decidere cos'è più importante, che pane è più importante da dare ai figli? Non sono proprio dettagli questi nella vita delle persone. Non pensiamo dunque che sia un mito, dice Papa Francesco, una rappresentazione, un simbolo, una figura o una idea. Tale inganno ci porta ad abbassare la guardia. E guardate che questo è molto serio. Quando tu hai un nemico che se ti dà un gancio diretto ti stende al suolo e ti uccide, abbassare la guardia è molto rischioso. Abbassare la guardia, dice il Papa, a trascurarci e a rimanere più esposti. Lui, sentite questo passaggio come profondo del Papa, lui non ha bisogno di possederci. Ci avvelena con l'odio, la tristezza, con l'invidia, con i vizi. Gli basta, per quello vi ho detto, attenti ai due estremi. Al demonio per acchiapparci e rubarci la vita spirituale. E anche il fatto che voi siete qua oggi, no? Anche Costanza, in fondo, con le cose che ha scritto, che dice, cioè in fondo dice cose normali, della tradizione, cioè come dice, confessa, ti prega, fa rosario. Ma se noi siamo qua così tanto, vuol dire che dentro di te ha intercettato un bisogno che è di sempre, di tutti gli uomini, che, insomma, ti voglio bene a Costanza e la stimo, ma non ha inventato il binomio di Newton. Ma lei, con noi, insieme, tutti, stiamo, abbiamo capito che c'è qualcosa di vero, che abbiamo bisogno di pregare insieme, di essere catechizzati, di accostarci con più consapevolezza ai sacramenti, di chiedere un aiuto spirituale, delle pillole a Dio, perché questa battaglia è decisiva, è la più importante. È quella che determinerà la qualità della nostra vita, che salverà la nostra vita e quella di chi ci sta vicino e che ci porterà, ci aprirà la porta. Sforzatevi di entrare nella porta stretta, dirà Gesù. Ma il verbo greco è agonizzo, che è un verbo che attiene ancora a un linguaggio militare della guerra. Cioè impara a stare nell'arena, impara a combattere. Mi ero segnato la scendo in agonizzo, vuol dire scendo in combattimento. Non è quel sforzatevi, fa il bravo, stringi i denti, fai un rosario in più. No, 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 no. Scendi nell'arena. Sapendo che siamo debolissimi, non ce la possiamo fare da soli. Noi, per usare ancora una parola di Paolo, possiamo capire benissimo con la testa quello che dovremmo fare, ma non ce la puoi fare se Dio non ti fa la grazia, se lo Spirito non ti illumina. Se non siamo sostenuti da un azione... Cioè noi oggi, in fondo, sarebbe bellissimo se lo Spirito Santo ci desse a tutti di sentirci dei mendicanti, che noi possiamo dire tante cose, anche che ci colpiscono, ma se Dio non ci aiuta a riconoscere questa debolezza e che davanti a queste lotte che sono più grosse di noi abbiamo bisogno di un alleato, del forte, di colui, Gesù, che ha vinto la morte e sul calvario ha portato per noi il combattimento finale. Un modo di annullare il combattimento spirituale è dire una cosa, un pezzettino di verità. Gesù ha mostrato l'amore del Padre. Sì, è vero. È verissimo. Ma non è come dire... E allora annulliamo che ha combattuto contro Satana, il combattimento finale, mostrando a tutto il mondo che lasciandosi distruggere dal male ha aperto la porta del Paradiso e un fiume di grazie per tutti gli uomini di tutti i tempi. Una lettura dell'Ufficio dice un sacco di misericordia che intanto che veniva trafitto e massacrato uscivano tutte le grazie dei sacramenti, del battesimo, dell'Eucarestia. E' molto importante questo. Pensate che uno dei padri dell'Oriente Evagrio Pontico e poi anche Gregorio Magno Evagrio Pontico dice che la radice di tutto da cui inizia tutto il combattimento spirituale è la filautia, cioè è l'amore a se stessi. È verissimo. Non so se Padre Maurizio e Don Antonio dicevano iniziamo le giornate guardando il telegiornale, guardando i quotidiani. È un atto, non neanche ce ne rendiamo più conto, di superbia enorme come dire io, Dio risolvi i problemi del mondo, invece uno che si conosce dice Signore parlami perché sennò oggi non andiamo da nessuna parte. E subito hai un salmo che ti viene in aiuto. Oggi abbiamo iniziato Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia. C'è uno pieno di amore a se stesso, fa molta fatica a entrare in relazione con Dio perché ha già capito tutto dalla vita oppure ha un'autosufficienza e guardate, siamo cattivi nel senso latino di captivus, schiavi di qualcuno che nascondendosi dentro di noi, senza che vomitiamo verde e giriamo la testa a 360, in modo assolutamente naturale e senza che neanche te ne accorgi t'ha convinto che sei Dio. Non hai bisogno tu di pregare. Nel tuo lavoro hai bisogno di confrontarti con Dio, nel tuo essere mamma, nello studio. Una dei doni dello Spirito Santo è dell'intelletto, per esempio, per fare un esempio, che abbiamo bisogno, e questo vale anche per un sacerdote, la tentazione di fare, fare il bene, fare tante cose, come dire la preghiera è come Santa Madre Teresa di Calcutta pregava ore prima di cominciare a fare il bene, perché i santi si conoscono e sanno che non possono nulla senza la grazia di Dio, senza una relazione con Gesù. Allora questo è molto importante ed è molto forte, la prima Evagrio Pontico dice, a differenza della tradizione occidentale, che è il primo dei vizi capitali, per lui non è la superbia, ma è la golosità, la gastrimargia, la follia del ventre. è la cultura in cui siamo, del mordi e fuggi, godi quello che puoi acchiappare in quel momento, una cosa è vera se ti piace, una cosa la fai se ti arreca piacere. Peccato che moltissime cose vere, buone, importanti, nella volontà di Dio, al momento non arrecano piacere, non sono proprio esattamente quello che ti aspettavi dalla vita. Guardate banalmente anche nelle vite sia di un consacrato che di uno che voleva sposarsi e non si è sposato, di uno che si è sposato, ma non è, io faccio sempre una battuta che mi piace, che copio da un mio amico frate, che dice anche quando i figli tutti li vogliono, quando sono piccoli sono così belli che li mangeresti, quando sono adolescenti ti penti di non averli mangiati. Guardate anche nella vita come tante cose belle non alimentano il tuo io, anche quante persone gli hai dato tutto e ti fanno fare delle figuracce che ti sotterreresti venti metri. Sono tutti quegli spilli che sgonfiano il palloncino, che sgonfiano la superbia della vita. Voi pensate a Gesù sulla croce quando gli offrono l'aceto che io in modo ignorante non lo sapevo, pensavo, dicevo, beh, uno che è pieno di piaghe gli metti l'aceto, certo che ti dice di no. Gli bruciano, invece l'aceto era un anestetico. E Gesù non l'ha voluto per soffrire filo in fondo la croce che ha salvato non solo tutto il mondo. È entrato filo in fondo nello spessore e nella difficoltà della vita. Allora, oggi anche forse una delle grazie del combattimento spirituale che abbiamo è che abbiamo anche noi tanti spilli che pensiamo che Dio non ascolta la nostra preghiera, invece forse oggi vedrai che è il segno dell'esatto contrario. Ci sono delle spugne imbevute d'aceto delle soluzioni facili un po' come quando hai tanti debiti vai dall'ultima finanziaria te li accorpa tutti e ti sembra che non l'hai più hai una unica maxirata. Peccato che magari questa il tuo stipendio non la copre neanche metà e la condizio quindi quel giorno ti senti bene hai risolto tutti i tuoi problemi finanziari peccato che il mese dopo ti viene voglia di suicidarti perché è peggio del mese prima questi sono i combattimenti spirituali veri è lì dove devi cercare il nemico e vedere il volto di Dio che ti aiuta e chi di noi è così matto da pensare che ce la possiamo fare da soli o che quando hai capito tutto puoi farcela senza l'aiuto di Dio una cosa che dice Vagreo Pontico che mi ha molto colpito che i demoni ci osservano e ci spiano i demoni non hanno la conoscenza del cuore perché il nostro cuore la conosce solamente Dio il Salmo 138 dice Signore tu mi scruti e mi conosci sai quando mi seguo quando mi alzo ma il demonio non ha la conoscenza del tuo cuore ma il demonio vede quello che fai è uno spione di prima categoria fa un intelligence su di te di quelle coi controfiocchi e i demoni ti attaccano sulle cose che ti hanno visto fare quindi tornano sempre sugli stessi temi provate a guardare un po' nella nostra pensate in questo giorno di preghiera e di e di catechesi di sacramenti chiedete la grazia allo Spirito Santo di dire oh svegliami dal coma spirituale guardate che chi più chi meno siamo in coma non c'è nessuno che è fuori da questa e il demonio vi dicevo non conosce il nostro cuore il demonio non può raggiungere il nostro intelletto ma i demoni si servono di immagini introducono dentro di noi le immagini ci attaccano al livello del nostro pensiero ed è molto bello la prospettiva dei padri dei monaci dei primi secoli del quarto secolo che dice che se l'uomo impara a lottare il demonio non può più nulla contro di lui come diceva padre Maurizio non è che poi la pentola a pressione non la senti ma un conto è stare svegli nel combattimento un conto è essere dominati e quello è il vizio quando uno sta nel vizio è come un'altra pelle che il demonio ti ha messo sopra sei schiavo e pensi di essere libero pensi di fare le battaglie giuste invece stai completamente sbagliando bersaglio di tutto nella tua vita pensi di fare la volontà di Dio invece sei completamente fuori pensi di essere un cristiano in realtà non lo sei quello che San Giovanni San Francesco della Sal chiamava i demoni luminosi che ti ingannano che fanno passare il bene per male e il male per bene e è molto forte una delle lotte è proprio per i padri dell'Oriente la custodia del cuore quando cominci ad entrare nella lotta vera e cominciare il combattimento spirituale quello l'altro gradino è imparare a custodire il cuore e chiudo purtroppo io non sono bravo coi tempi va bene c'è lo Spirito Santo ispira un po' quello che ci serve mi fanno così cosa vuol dire mi dite voi stop un esercizio un esercizio spirituale piccolino che scusate ma dobbiamo andare via con cose che si capiscono e che ci aiutano oggi una lotta se la lotta è la custodia del cuore il demonio arriva nei pensieri e con le immagini un esercizio spirituale nella vita e quando ti arriva un pensiero abitoti a chiedergli a quel pensiero di chi sei sei del demonio o dello Spirito Santo il demonio sempre ci scoraggia ti fa sempre sentire solo ti induce alla tristezza ti invita ad isolarti ti fa sempre vedere la vita come qualcosa di irrimediabilmente chiuso dopo una litigata per sempre è finito il rapporto con quella persona dopo una denuncia dopo una caduta grave nel peccato dice basta Dio ti ha punito basta Dio non ti perdonerà più che vai a confessarti ancora che tanto sai già che cadrai un'altra volta da chi viene secondo voi questo pensierino viene dal demonio o viene dallo Spirito Santo viene dal demonio perché Dio finché avremo un ultimo respiro ci aiuterà sempre ci aiuterà in ogni passaggio della nostra vita ci incoraggerà in ogni situazione ci darà la grazia per superare ogni battaglia ogni caduta ogni peccato ogni paura ogni momento di difficoltà fino al momento più grande la paura delle paure la paurissima che è la paura di morire anche lì ci assisterà con il suo angelo nel combattimento finale nell'agonia finale per entrare definitivamente nell'abbraccio e incontrare la persona di Gesù che è Lui che vuole ma questo dialogo come ci ricordava anche Don Antonio non è sempre tante volte ci sono delle interferenze è disturbato a volte ti sembra di parlare da solo continua non mollare la presa c'è qualcuno dietro e tante volte poi Gesù si manifesta e dici va bene ma adesso l'ho capito l'ho visto sei tu anche se non mi parlerai più per dieci anni io ormai ti ho incontrato e il giorno dopo nella solitudine nella preghiera dici signore non ci sei dammi un segno una volta c'era una signora che mi ha detto io adesso siccome non lo sento più così chiedo una cosa e poi ascolto se entro cinque minuti passa un aereo in cielo e sento il rumore vuol dire che è Dio che mi ha detto di sì ha detto guarda ha detto accetta l'aridità fa parte della tua relazione con l'amante ma anche voi che siete sposati ma vi parlate sempre siete sempre in una sintonia perfetta riuscite a capirvi sempre e in quei momenti in cui l'unica parola che ti piace è la lontananza non è che non vale più il matrimonio fa parte del linguaggio della vita un prete non so penso a tutti i sacerdoti qua quante volte ci siamo sentiti dire preghi che le sue preghiere valgono di più ma non lo so per il battesimo tutti siamo sacerdoti siamo tutti in questa battaglia allora questo è molto importante e origene dice un altro padre il cuore dell'uomo è come un giardino che se entra un serpente diventa un inferno per quello è importante custodire il cuore oggi noi siamo venuti qua perché Gesù vuole entrare in questo giardino e togliere le piante secche vuole aiutarci incoraggiarci spronarci vuole farci sentire di nuovo il suo amore non vuole che andiamo via con qualche acquisizione intellettuale in più vuole ravvicinare le distanze e allora e finisco è importante nella lotta contro i pensieri nel combattimento spirituale vedere Evagrio Pontico dice il grado di penetrazione del nemico nel pensiero c'è un primo grado comincia il demonio con la suggestione una semplice idea un'immagine un ricordo che te la suggerisce il nemico che ne so faccio un esempio che viviamo tutti a tutti noi ci è capitato di litigare con una persona quantomeno che una persona in genere sono quelle più vicine ti ha detto una frase che ti ha fatto morire magari non ci hai litigato oppure ti sei riconciliato non fa niente ma anche a distanza di anni dopo in una situazione di debolezza il demonio ti ritorna e te la fa ricordare con virgole punti e virgole sfumature sospensioni e te la ricaccia lì davanti sbang questo non è un peccato è il primo grado primo tentativo di penetrazione della tentazione suggestione capite perché la custodia del cuore imparare a combattere è importante secondo grado tu cominci a conversare con quell'immagine dici mamma mia è vero non me lo ricordavo eppure questa pensa come sono stato troppo buono in questi anni la conoscete questa musichetta satanica o la conosco solo io ancora non è un peccato quando cominci a conversarci terza fase si entra nel peccato quando tu dai il consenso al piacere proibito proposto dal nemico che vuol dire diventa una telefonata un messaggino all'acido stenico una denuncia una sfuriata pensi anche tu la frasettina che spezza le ossa con un bel colpo di lingua di pari forza e durata tante cose o nelle dinamiche dei tradimenti no tu vai in ufficio il tuo collega ti dice stai bene hai cambiato colore i capelli bello il demonio ti dà un'immagine tuo marito non se ne è neanche accorto primo grado è un peccato no però poi ti dice che ci prendiamo un caffè insieme e cominci a entrare nella trappola il demonio è un leone ruggente sa come fare la corrida e sa che quando una persona è addormentata e non lo conosce non capisce contro chi combatte e poi ti mette del vittimismo beh in fondo chi è in caffè non ti fa vedere la finale o in fondo è tanti anni che non parli con tua moglie un po' di non è neanche così grave a te che sei una vittima io lo chiamo il demonio calimero tutto nero piccolino e tutto nero che ci dà sempre giustificazioni che in fondo sì è grave in assoluto ma per te con quello che vivi e poi c'è la prigionia l'ultimo grado cioè diventa una pelle nuova una seconda natura fai scelte che cambiano completamente il corso della tua vita ti dai una patente di buona condotta e poi vuoi obbligare Dio a darti ragione il combattimento spirituale è qualcosa che è molto concreto fratelli ma anche la grazia di Dio è molto concreta allora io scusatemi se sono stato forse anche un po' confuso però vorrei finire sottolineando anch'io quello che diceva padre Maurizio le armi le sappiamo le lemosina la carità sono tante le armi che la chiesa ci dice l'accusa dei nostri peccati ricorrere ai sacramenti e via dicendo ma di tutte le armi la preghiera è l'unica di cui San Paolo dice pregate sempre sempre che vuol dire stai lucido sempre su quello che ti succede dentro sempre perché tu puoi pregare facendo il risotto puoi pregare inventando il binomio di Newton puoi pregare facendoti una nuotata in piscina puoi pregare sempre ma che questo non diventi una giustificazione ad avere dei momenti in cui devi pregare senza fare il risotto ti devi proprio mettere lì ferma e dedicare tempo solo alla preghiera ti vengono le immagini sai che è il nemico il debogno ti fa addormentare ti cade la testa ti risvegli e ricominci dici non sono capace di pregare però signora almeno sto qua Santa Teresina del Bambin Gesù non so se è vero però mi hanno sempre detto che l'hanno attribuito a lei si distraeva sempre durante il rosario e lei diceva sono 50 distrazioni che piacciono tantissimo alla Vergine Maria San Michele Arcangelo prega per noi grazie a tutti grazie a tutti